Cambiamo ora argomento, il vino deve essere lo strumento per l'affermazione del nostro territorio. L'ho affermato Carla Iorio, delegato ONAV Molise. Il Molise anche quest'anno parteciperà al Salone Nazionale di Vini Selezionati, Dugia d'Or, che si terrà ad Asti. Dall'8 al 17 settembre il Salone Nazionale del Vino ad Asti. Il Molise quest'anno è stato richiamato per la seconda volta. Carla Iorio, delegato ONAV Molise. Possiamo dire che il vino diventa ambasciatore del Molise? Il vino è ambasciatore del Molise, è ambasciatore di tutti i territori, non solo del Molise, nella fattispecie senza dubbio della nostra regione. È attraverso il vino che si può comunicare quella eccellenza territoriale, quella incontaminazione del nostro territorio, la nostra storia, la nostra cultura e perché no anche la nostra religiosità. Perché non dimentichiamo che oggi anche il turismo religioso ha un'importanza notevole nel pacchetto turistico globale. E il vino aiuta anche a questo. Il vino è senza dubbio il miglior tramite, il miglior veicolo per parlare di territorio, per parlare di turismo e per parlare di cultura. Intanto il lavoro portato avanti dall'ONAV non si ferma qui. Noi siamo orientati e proiettati non soltanto alla valorizzazione del territorio all'interno della nostra regione, ma soprattutto al di fuori della nostra regione. Un esempio ne ha assi, ma sono anche i numerevoli seminari che noi andiamo realizzando presso le altre delegazioni, proprio per portare fuori la produzione enologica di questa regione. Noi abbiamo come strumento questo, quello della conoscenza della didattica. Ed è quello che stiamo facendo, lo stiamo facendo in tutta Italia, lo abbiamo fatto nel Vini, basta pensare anche al Vini Italy. Noi siamo l'unica associazione che ha realizzato ed è riuscita a realizzare, anche in questo caso per due anni consecutivi, dei seminari istituzionali volute proprio dall'ente fiera. Anche in questo caso generalmente c'è un turnover, invece questo interesse nei confronti del Molise ha fatto sì che anche l'ente fiera ci abbia richiamato quest'anno 2017 a riproporre un nuovo seminario sui vini molisani. Tutto questo proprio finalizzato alla conoscenza e allo sviluppo della produzione regionale vitivinicola. A sostenere il lavoro portato avanti dall'ONAV, la regione Molise, la nostra scelta, ha affermato l'assessore all'agricoltura Vittorino Facciolla, è finalizzata la promozione di iniziative che hanno una capacità di ricaduta sul territorio. Si è dimostrato in questi anni che vi sono degli eventi ai quali il nostro territorio non può non partecipare perché consente alle aziende di poter essere protagonisti, di poter presentare i propri prodotti, di poter presentare il territorio regionale, di fare quell'animazione e quella lobby che serve per fare mercato, per implementare la loro capacità di marketing e per implementare la loro capacità di fatturato. Asti, Duyador, è una di queste occasioni che rientra nell'ambito di quelle manifestazioni alle quali la regione, io ritengo, faccia bene a partecipare e farà bene a partecipare anche nel prossimo futuro.